E' importante questo momento, è importante essere qui al Conservatorio, è importante che in questo periodo storico il SUC abbia organizzato questo importantissimo forum internazionale. E' una cosa particolarmente importante, almeno per me e per il mondo che rappresento, che ci sia anche il carcere. Quindi il carcere come possibilità di essere un luogo dove si esercita il buon governo, dove i diritti sono rispettati, dove i cittadini detenuti conservano, per quanto limitati nella libertà, gli stessi diritti dei cittadini liberi. E' un carcere guidato da un buon governo, quindi da un governo che produca libertà. E' importantissimo che la città penitenziaria dialoghi con la città metropolitana, mentre la città metropolitana si interroga su temi drammatici come la soppressione di diritti fondamentali, l'immigrazione, la marginalità, la psichiatria, i problemi dei giovani.